Buongiorno, oggi è mercoledì 12 agosto, questa è la Rassina Stampa di Video 33, nuovo appuntamento quindi con la nostra informazione. Cielo sereno su gran parte del territorio altotesino, alcune nuvole nel tardo pomeriggio non si escludono deboli temporali. In regia questa mattina c'è Massimo Moro, con il suo aiuto diamo un'occhiata alle aperture dei quotidiani che troviamo in Edicola. L'Alto Adige dedica la sua apertura alle multe, alle multe per la città di Bolzano, 37 euro l'anno a testa, il comune, il comune del capoluogo ha messo a bilancio 4 milioni di euro. La cronaca cura del Corriere dell'Alto Adige ci si occupa di appalti, sì alle nuove regole, la giunta provinciale ha approvato la riforma, gli artigiani dicono passi attesi da tempo. La cronaca in lingua tedesca cura del quotidiano Dolomiten, l'apertura è dedicata alla tragedia che si è consumata ieri in Val Ridanna, un escursionista è precipitato per una trentina di metri, aveva 50 anni e proprio ieri era il suo compleanno. Sempre in apertura sulla cronaca del Dolomiten troviamo la riorganizzazione del centro sperimentale di Leinburg, novità che interessano da vicino anche i giardini di Trautmansdorf. La cronaca ancora in lingua tedesca a livello locale con il quotidiano Tagest Zeitung, i nuovi limiti di velocità sull'autostrada ma non solo, si parla di un progetto europeo per garantire più sicurezza sulle strade della provincia di Bolzano. Ci si occupa in apertura anche degli accertamenti del procedimento giudiziario nel mondo del biathlon per quanto riguarda le ipotesi di doping. Passiamo a livello nazionale ed internazionale con il Corriere della Sera, profughi, una nuova strage, si apre il fronte greco, neonaufragio in Libia, decine di morti, Movimento 5 Stelle e Lega dicono bisogna adottare la linea dura. Dopo Fukushima, proteste e cortei nucleare, Toco, Tokyo riapre l'attività. Sempre per la cronaca, la Cina scuote ai mercati mondiali, svalutata la moneta, la Russia in recessione. Ilaria, morta per l'ecstasi cattiva, Messina, parlano gli amici dopo la tragedia, la vittima di Lecce aveva una malformazione al cuore. Rimaniamo a livello internazionale e nazionale con il Sole 24 Ore per le notizie a carattere economico. La Cina svaluta e scuote le borse, la mossa di Pechino spaventa gli stini, Milano perde l'1,12%, Francoforte il 2,68%. Poste il 40% sul mercato, ad ottobre operazione da 9-10 miliardi di euro, quote riservate a dipendenti. Presentato in Consob il prospetto informativo. Torniamo allora alla cronaca dalla provincia di Bolzano con il dettaglio della prima pagina del Corriere dell'Alto Adige. Abbiamo visto poco fa l'apertura è dedicata alle nuove regole in tema di appalti, ci si occupa anche di nuovi interventi in tema di sicurezza stradale, più controlli con nuovi autovelox e una serie di iniziative illustrate ieri dall'assessore Florian Mussner. Ci si occupa anche degli atti del sinodo Visioni Future per la chiesa altoatesina, le donne sono più protagoniste. Poi basta degrado, ex pascoli, ingressi sbarrati. Verdi e sindaco nel mirino del Partito Democratico, c'è l'ultimatum. E poi chiusa l'inchiesta, indagati i Tashler, ci si occupa dei presunti casi di doping nel mondo del biathlon, finisce sotto accusa pure il medico Michele Ferrari. Ancora con la cronaca in prima pagina del Corriere dell'Alto Adige, ci si occupa di consumi, l'inflazione sale, spesa più cara di 368 euro l'anno. Tra verità e bugie in mondo della cultura, Merano accoglie lo scrittore Arango. Ancora con la cronaca in prima pagina del Corriere dell'Alto Adige, lo sport, il tennis, trofi, rung, fenomeno Prader è agli ottavi. Andiamo allora nel dettaglio, nel dettaglio di alcune notizie del Corriere dell'Alto Adige. Gli appalti, le novità, la giunta provinciale vara la riforma, riforma il Presidente Compatcher dice, gare con invito fino a 2 milioni di euro e costi basati sul ciclo vitale. Servizi alla persona, bandi no profit. Ancora con la cronaca, la pagina economica, boom di assunti a tempo indeterminato, Alto Adige sopra la media italiana, l'osservatorio dice aumento del 50%, la Sutilorer Wirtschaftsring interviene, dice merito del Jobs Act, alcuni dati, 53,4%, l'aumento delle assunzioni a tempo indeterminato, 114 mila assunzioni con contratti stabili nei primi sei mesi in regione. Lasciamo la cronaca a cura del Corriere dell'Alto Adige. Andiamo a vedere, come sempre, anche il dettaglio della prima pagina dell'Alto Adige. Abbiamo visto, ci si occupa di multe, multe per quanto riguarda il capoluogo, i dettagli delle notizie riguardo le multe, erano alcuni giorni fa sulla cronaca in lingua tedesca. E poi, sempre in apertura, la tragedia che si è consumata ieri in Varridanna, sul sentiero del bicchiere, un escursionista è precipitato per una trentina di metri, è morto sul colpo proprio ieri, giorno della disgrazia, compiva 50 anni. I dati del 2013 riguardo le spese elettorali, la SVP regina, regina di queste spese, in testa l'assessore Adige e a Hammer. Ancora con la cronaca, dopo il centro, vi fa una crab di Bolzano, ci si sposta a Merano, Tirolo, chiama Bolzano per campare, dicono i responsabili della struttura, alle porte di Merano, dicono per campare, ci autofinanziamo con gli spettacoli. La provincia pensa a Tutor e Autovelox, abbiamo visto poco fa in apertura anche del Corriere, le nuove iniziative in tema di controllo della velocità. E poi un cittadino di origine napoletana ha raggirato online 71 alto tesini, il bottino è di circa 50 mila euro. Via Alto Adige la riqualificazione di questa zona, del capoluogo l'accordata, ecco il progetto di Point. Fondi e sanità sociale, fondi a sanità e sociale, in provincia spunta un tesoretto da 138 milioni di euro e poi ad Appiano consulenza da 100 mila euro per il Lido di Monticolo. Infine Bolzano spesa, la città, Bolzano è la città più cara, in un anno i costi sono aumentati di 368 euro per ogni famiglia. Andiamo allora a vedere il dettaglio della notizia di apertura, 37 euro all'anno per ogni Bolzanino, ci si occupa di multe, contravenzioni, il Comune ha messo a bilancio poco più di 4 milioni per il 2015, importi irrisori invece per l'Aives e l'Ana. Se in periferia fanno meno multe, forse il personale è destinato ad altri compiti, dicono i vertici della Polizia Municipale di Bolzano. Il centro avifauna di Tirolo, volatili, Tirolo si rivolge a Bolzano e dice bisogna autofinanziarsi dopo la chiusura del Crab, parla il titolare della struttura meranese, i contributi non bastano, ci sosteniamo con lo spettacolo del volo dei rapaci. Ancora con la cronaca, sempre a cura del quotidiano, Alto Adige, Bolzano è la città più cara dove fare la spesa in un solo anno. I prezzi degli alimentari sono cresciuti di 368 euro da ogni famiglia. Il capoluogo Alto Tesino precede Milano e Genova, rispettivamente con un importo di 240 e 200 euro a nucleo familiare. Andiamo a vedere la cronaca, la cronaca in lingua tedesca, a cura del quotidiano Dolomita. Abbiamo visto poco fa in apertura ci si occupa della tragedia in Varridanna, ci si occupa della riorganizzazione del centro sperimentale di Leinburg, ci si occupa anche di una notizia che arriva dal Trentino, e cioè è morto, è morto in cattività, il più vecchio orso bruno, a livello europeo, aveva 48 anni, era un'esemplare femmina ed era custodita in un centro protetto proprio in provincia di Trento. Andiamo a vedere i dettagli, la nuova legge sugli appalti, le novità che interessano il centro di sperimentazione agraria di Leinburg, con risvolti anche per i giardini di Trautmannsdorf. E ancora con la cronaca, la cronaca sempre a cura del quotidiano Dolomita, i controlli della velocità in provincia di Bolzano, le novità presentate ieri dall'assessore Musner, si parla di un ritorno degli autovelox, ma anche del sistema Tutor, il pensiero va subito alle moto. Ancora con la cronaca, la cronaca a cura del quotidiano in lingua tedesca, ci si occupa di turismo con una pagina dedicata alle offerte sul territorio anche in Austria e ci si occupa anche di una serie di novità che interessano il mondo ladino, il mondo della politica, della Valgardena, della Valbadia, della zona di Corvara in particolare. Ancora con la cronaca, sempre per rimanere in tema di attualità in provincia di Bolzano, una serie di notizie che interessano da vicino quello che è accaduto sul territorio, ma soprattutto la tragedia della Varri d'Anna, soccorso da parte dell'Aiutalpindolomites, tutto si è rivelato vano per un turista germanico di 50 anni, precipitato per una trentina di metri il giorno del suo compleanno. Per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare. È tutto anche per la cronaca lingua tedesca, abbiamo ancora tempo per proporvi la prima pagina del settimanale Il Segno, settimanale di Uccesano di informazione e approfondimento a cura della diocesi di Bolzano e Bressanone, una storia tutta da leggere, si parla di cooperazione internazionale, sempre in prima pagina ci si occupa di una serie di altre notizie che interessano da vicino al mondo della Chiesa, ma non solo a un approfondimento dedicato ai profughi, vedete in apertura anche il ricordo della tragedia di Hiroshima e Nagasaki 70 anni dopo e poi ancora una volta una serie di approfondimenti dedicati ai meno fortunati, ai poveri del mondo. Io vi ricordo che ora ci fermiamo qualche istante per andare poi a vedere che tempo farà nelle prossime ore in provincia di Bolzano. Sanfter il gusto genuino dell'Alto Adige dal 1857 a fumelli Sanfter specca Alto Adige Sanfter qualità e gusto Sanfter saper fare saper vivere la prima immagine che vi proponiamo oggi ci porta a vedere quello che accade sulla conca che ospita la città di Bressanone come sempre alcuni minuti dopo le 6 di questa mattina andiamo in Alta Valvenostra questa è la zona dell'abitato di Malles di mattina presto vedete già cielo sgombro da nuvole ci spostiamo ci spostiamo all'imbocco della Valvenosta siamo alle porte dell'abitato di Foresta e diamo una rapida occhiata a quello che accade in direzione della città di Merano anche oggi la collaborazione con gli esperti meteo della provincia ci permette di dare un'occhiata in diretta le immagini che arrivano dal satellite immagini più che eloquenti riguardo quello che ci attende sarà una giornata all'insegna del bel tempo con temperatura in linea con gli ultimi giorni la grafica adesso per capire il dettaglio di questa mattina e del pomeriggio come detto assenza di precipitazione di precipitazioni forse forse alcuni deboli temporali di calore nel tardo pomeriggio temperature di 36 gradi a Bolzano 35 a Merano 31 a Silandro e tutti i valori oltre i 30 gradi negli altri centri abitati della provincia nel fondo valle io vi ricordo che gli aggiornamenti sono come sempre a vostra disposizione su facebook al tuo adegio meteo e all'interno del nostro sito internet nella sezione riservata alla mediateca online vi ricordo alcuni appuntamenti alcuni appuntamenti da non perdere sia per la giornata di oggi sia per i prossimi giorni una sera d'estate a Merano con l'esibizione di dottor Frankenstein sempre oggi la Terna in party a Vipiteno i pubblici esercizi aperti fino a tardi domani 13 agosto giovedì lunghi Alana il 14 di agosto Rock in Wald per gli amanti della musica e dello sport a Campo di Trense anche il 15 di agosto e il 15 di agosto giornata serata di Ferragosto una sera d'estate a Merano con i ricchi e poveri in esibizioni nel parco delle terme io vi ricordo anche il nostro indirizzo internet www.video33.it potete rivedere questa rassegna stampa le varie edizioni dei nostri telegiornali una rassegna stampa in breve all'interno della mediateca online i principali i contributi filmati andati in onda nelle ultime ore come sempre aggiornamenti meteo in tempo reale potete seguirci in streaming www.goinfo.it aggiornamenti anche in questo caso 24 ore su 24 riguardo a tutto quello che accade in provincia di Bolzano alle ore 13 alle ore 19 non perdete anche oggi le nuove edizioni dei nostri telegiornali vi ringrazio per aver scelto ancora una volta l'informazione di video 33 vi auguro un buon proseguimento di giornata ariete la luna esprimerà per te oggi tutta la tua forza magnetica e introspettiva impossibile non assecondare i tuoi desideri oggi sarai a malià toro generoso come pochi oggi la luna ti conferisce un lato materno che va ben oltre il tuo essere uomo o donna gemelli passivo e malleabile cosa succede? non è da te essere vittima degli eventi e aspettare che qualcosa accada cancro esterna la tua affettività tira fuori emozioni paure timori rabbia portarsi tutto dentro non aiuta anzi talvolta ingigantisce problemi e situazioni leone contemplazione sei passivo quanto basta permettere a riposo la mente e non permettere a nessuna informazione ed emozione di toccarti vergine altruista e forse anche troppo oggi nonostante i desideri espressi e i programmi fatti puramente per amore e rispetto rimetterai tutto in gioco e in discussione bilancia il sole finalmente torna a illuminarti e così ti rende creativo e attivo come non mai scorpione è tempo di vacanza per tutti certo è che al lavoro tutto è fermo a tal punto da far apparire vano qualsiasi sforzo o iniziativa parti sagittario tu sei più forte di qualsiasi saturno contro ricordalo evita sul nascere scontri e discussioni capricorno giornata di discussioni in famiglia o con il partner perché si sa le incomprensioni ti raggiungono pure in vacanza acquario prendi la vita come viene starai meglio e sarai più felice evita ogni programma a lungo termine vivi e lasciati sorprendere dal caso pesci non sei bravo ad esternare quello che senti più quello che pensi per te è più semplice fare che parlare ma l'amore si sa ha bisogno anche di cose dette grazie a tutti 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 grazie a tutti